Bene, noi per esempio utilizziamo questo concetto di anima e corpo come se fosse una verità. Lo utilizziamo da tutte le parti, siamo persuasi che siamo composti da anima e da corpo. Beh, ma chi l'ha detto? L'ha detto Cartesio e a partire da Cartesio si è organizzato tutto l'impianto scientifico della medicina che lavora sul corpo, si sono divise le parti, sul corpo si occupa la medicina, nell'anima si occupa la religione e ultimamente anche la psicologia. Ma è poi vero tutto questo? Il fondatore della fenomenologia che si chiama Husser, un filosofo del Novecento, dice dobbiamo evitare gli errori seducenti introdotti da Cartesio e dai suoi successori. Il metodo che utilizzeremo non è il metodo di Platone. Platone imposta le domande in questa maniera, che cos'è l'anima, che cos'è il corpo, che cos'è la bellezza, che cos'è la verità. E siccome Platone ha inventato il nostro modo di pensare e di parlare, ancora noi oggi chiediamo le cose in questa maniera, che cos'è una cosa. Nietzsche ha introdotto un altro modo di interrogare, che è il seguente. come è venuta al mondo questa certa cosa, che origini ha avuto, che storia ha avuto questo dualismo. Perché si è sentita la necessità di pensare l'uomo come composto da anime e da corpo. Allora, le fonti della cultura occidentale, noi ci occupiamo della cultura occidentale perché la psicologia di cui ci occupiamo è una modalità occidentale di pensare e di curare. Gli orientali procedono per altre vie. Bene, la cultura occidentale ha due fonti, la grecità e la tradizione giudaico-cristiana. La grecità, prima di Platone, non aveva la più palida idea del dualismo. Omero pensa che l'uomo sia sostanzialmente corpo, e ce lo descrive sempre come corpo, che è in rapporto al mondo. Con la parola mondo si intende il mondo ambiente. Il corpo, in relazione a un ambiente di guerra, ha una certa fisionomia, una certa modalità di ricevere gli stimoli, una certa modalità di reagire. Il corpo che ascolta il canto delle sirene ha un'altra modalità di essere al mondo, di percepire il mondo, di reagire al mondo. Corpo-mondo. Sotto questo profilo, Omero non pensa che il corpo sia rappresentativo di una dinamica che si svolge nel retrocorpo, cioè nell'anima. Il corpo è immediatamente espressivo. Allora, l'ira di Achille, non è che il corpo la minima la rappresenta. L'ira di Achille è nel suo balzare sull'alto limitare, è nelle sue braccia lord di sangue, nelle sue cosce agile e forti, nell'arco, nella faretra. Questa è l'ira, è la reazione che il corpo ha in quel mondo, in quel mondo di proci che attentavano alla sua sovranità. Quindi, Omero non visualizza l'uomo come un rapporto animo-corpo, ma come un rapporto corpo-mondo. E in questa modalità dobbiamo dire che Omero è ultramoderno dal momento che questo secondo paradigma si è affermato da noi, solamente nel secolo scorso. Il cristianesimo, ancora di meno, ha una nozione di animo, non ce l'ha proprio per niente. infatti di tutte le religioni monoteiste è l'unica che prevede l'incarnazione, Dio che si fa corpo. Dio che si fa corpo è quello che si prevede, e tutta l'ordine della passione, della salvezza, avviene sulla base della sofferenza del corpo. L'ultima cena, nell'orto degli olivi, Gesù che si lamenta con i discepoli che dormono, dormite, yamam requiescite, la flagellazione, l'incarnazione di spine, la salita del golgoth, la freccia del costato, la morte e la resurrezione. E nel credo, i cristiani non recitano di credere nell'immortalità dell'anima, ma di credere nella resurrezione dei corpi. Perché la religione cristiana è una religione corporea, fortemente corporea. La salvezza avviene attraverso il corpo di Cristo che nasce, predica, cresce e muore. Perché per il greco, l'idea che gli uomini risorgono era una cosa assolutamente impensabile. Al punto che i greci non chiamavano mai l'uomo uomo, quasi mai, anche se avevano le parole per dirlo, avevano la parola antropos e la parola anera, ma non l'hanno mai usata. Usavano all'epoca di Platone la parola brotos, colui che è destinato a morire, e all'epoca di Platone, no scusa, è tra l'epoca di Omero la parola brotos, e all'epoca di Platone la parola zanetos, che sta per zanatos, il mortale. Gli uomini sono mortali. E questa è anche la ragione, il puntum crucis, dalla dimensione tragica del mondo greco, perché l'uomo per vivere deve creare un senso, in vista della morte, che è l'implosione di ogni senso, quindi l'assoluta insignificanza dell'esistenza. Il corpo è folle, semplicemente perché è individuale, semplicemente perché non è universale. Se la ragione è l'universale, ciò che vale per tutti, il corpo non dando informazioni universali, appartiene allo scenario della follia. Capite che qui la psicologia già incomincia a tremare, se facciamo un piccolo riferimento. Prendete la medicina, la medicina è un sapere, perché la tua epatite virale è uguale a tutti quelli che hanno la epatite virale. Il tuo modo di vivere l'epatite virale è diverso da individuo a individuo. E se la psicologia si muove là, sull'individuale, voi capite che la psicologia, diciamolo chiaro all'inizio, e poi lo dirlo, ribadiremo ogni volta, non può diventare scienza. Capite come procede la cosa? Ma non è un problema, il problema grosso è non allarmiamoci se ci troviamo in un contesto non scientifico, meno male, l'uomo non è oggettivabile come tutte le cose, perché gli capita anche di avere una soggettività, anzi di fondo è sostanzialmente questo. Il problema è di non identificare la soggettività con la sua anima. Da quello che Nietzsche chiama il colpo di genio del cristianesimo, quello di aver detto agli uomini non morirete mai, vinto la partita, chiusa alla tragedia, ha indicato nel futuro una promessa assolutamente del tutto positiva, perché nel futuro c'è la salvezza, che consiste nell'immortalità dell'anima. Psiche eisi bios, l'anima è la vita, e il corpo, che adesso spero che cominciamo a interiorizzare un pochino il corpo, il corpo si distingue dal cadavere, perché ha vita, l'anima non è altro che l'animazione del corpo, la vita, il corpo vivente, il corpo vivente, che la medicina non prende mai in considerazione, perché come osserva opportunamente Foucault, lei è nata sullo scalpello dei cadaveri, e quindi è partita dai morti per capire che cos'è la malattia, e alla vita non c'è ancora arrivata, infatti quando voi andate in ospedale, siete ripartiti in base all'organo della vostra malattia, gastrologia, cardiologia, si è diventati rappresentanti d'organo, la vostra soggettività è messa fuori gioco benissimo per la medicina, malissimo per il paziente. Se il corpo è quella estensione, esaminando i corpi dei matti, che si vede che stanno male, che hanno una malattia, ma a esaminare il loro corpo non si vede un bel niente, e allora nasce una scienza di risulta, che sarà poi la psichiatria, ma sapete come si chiama? Morbus sine materia, è una malattia senza riscontro organico, è una scienza di risulta, perché non si sa neanche che nome dargli, successivamente gli si dà il nome di psichiatria, e ora dell'anima da 2000 anni a questa parte si era detto tutto, chi c'era e che non c'era, che era mortale e che era immortale, che era infusa di Dio al lato del concepimento, oppure dopo tre mesi come dice Tommaso d'Aquino, si era detto tutto, dal 1700 si dice persino che l'anima può anche ammalarsi, e nasce una scienza per la cura dell'anima, la psichiatria. Ma no, le neuroscienze fanno benissimo il lavoro loro, che è quello di studiare il cervello, Apro la parentesi, mi pare che il cervello sia corpo, chiuso la parentesi, cioè la direzione del mio discorso è smettiamola di pensare anima e corpo, e cominciamo a pensare a corpo e mondo, anche perché tutto il lavoro dell'interiorità, anima e corpo, tutta la psicanalisi è ancora lì, è un residuato cristiano anche quello, tutto in interiore hominis avviene tutta questa cosa, no, corpo e mondo, noi siamo al mondo e reagiamo alle cose del mondo, il mondo mi impegna, io reagisco al mondo che mi impegna, mi sollecita, rispondo al mondo e via di seguito. La psicologia ha un suo sapere specifico, che non è scientifico, che si chiama soggettività, perché non è scientifico? Per la semplice ragione che la soggettività non è oggettivabile, e la psicologia si occupa di questo, e allora va rivendicata questa soggettività, al di là dell'oggettivazione che le neuroscienze fanno di noi. Questa è la cosa bella della psicologia. Per esempio, quando uno è ammalato in ospedale, si lamenta della scarsa umanità dei medici, che cosa si sta lamentando? Del fatto che lui è considerato come un organismo, e non come un soggetto di vita. ecco, allora lo psicologo deve difendere fortemente questa sua roccaforte, che è la difesa estrena dalla soggettività. È chiaro che la soggettività non ha metodo scientifico, non ce l'ha, dell'individuale non c'è sapere, lo diceva già Aristotele all'epoca. Però questo è il suo oggetto, è chiaro che... Dopodiché io non voglio che gli psicologi si aggancino spaventosamente ha le teorie, per esempio in ambito psicoanalitico, le teorie dei rispettivi fondatori per trovare degli schemi interpretativi, riducendo i pazienti a casi. Tu puoi ridurlo a caso se fai scienza, ma se non fai scienza non puoi ridurlo a caso. Il caso clinico non esiste, se non nel tuo presupposto scientifico. Adottando la schematica della metopsicologia posso ridurti a caso, ma allora io ti ho fatto semplicemente, ho schematizzato quello che tu sei a partire dalla mia ipotesi anticipata. E questa è scienza. Freud è scienziato, non c'è nessun dubbio. Ma forse proprio per questo Biswagher gli diceva, guarda che forse non conosci più l'uomo tu, conosci l'uomo natura, non l'uomo cultura, l'uomo che si muove nel mondo con la sua soggettività. Lo stesso di Jungiani, quando Jung ha scritto nel 21, i tipi psicologici, gli Jungiani sono buttati a bomba su questi tipi psicologici, così almeno c'era uno schema, una cancellata, per poter appendere i vari impiccati. E no, a parte che nel 1921 forse i tipi psicologici di Ucce, c'erano le visioni del mondo di Jasper, i tipi sociologici di Weber, era una mania dell'epoca. Ecco, un po' di che, vanno bene anche queste cose qua. Però, oppure andare a cercare gli archetipi, la cosa è ancora più grave. Perché se l'archetipo è questa immagine primordiale, ben più potente di tutte le tue movenze psichiche, a quel punto qui tu hai trovato un DNA, ed è immodificabile, hai trovato un DNA psichico, allora a questo punto cosa sta a parte lo psicoterapeuta, caro dottore Hillman, a cui voglio molto bene, eravamo anche amici, ma lo siamo, purtroppo è morto, ma ha una qualità di struttura, mi consiglio di leggerlo, perché è una cura dell'animo per davvero, con le più metafere, però c'è un modello archetipico, un disastro, perché se io ho un archetipo, e sono un puere eterno, oppure un Senex Saturnino, e non posso farci niente, allora, cosa stiamo a fare? Capito? Ecco, a questo senso, la filosofia, sai cosa serve gli psicologi? A diventare un po' critici rispetto al momento dottrinale, perché questa sarebbe un'operazione molto importante, essere un po' critici, non lo fate troppo, perché dopo rischiate nelle vostre società di apparire come eretici e vi trattano male.